30 tamponi antigenici rapidi nasali covid eseguiti solo nel primo giorno di attivazione del servizio alla farmacia comunale di Pietrasanta, un dato che testimonia l'alta richiesta di test sul territorio per snellire le attese di chi deve eseguire un tampone per ottenere il green pass. Il posizionamento di un gazebo esterno adiacente locali sulla via Aurelia è stata la soluzione adottata per ovviare alla carenza di spazi interni come già fatto del resto da molte altre farmacie pubbliche e private. Il servizio sarà attivato inizialmente solo quattro giorni su sette specifica il presidente dell'azienda speciale Gianluca Duranti ovvero domenica, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e solo su prenotazione online. Oggi con tutta l'emergenza covid con questi green pass è giusto avere anche sul nostro territorio visto che poi la farmacia è comunale e investire anche in questo tipo di esigenze di realtà che ci sono. Voglio anche ringraziare il consigliere Sander da Prato che il suo input è stato fondamentale a far partire questo importante servizio. Voglio ringraziare anche tutto il consiglio di amministrazione della farmacia. L'attivazione del servizio alla farmacia di Pietrasanta potenzia il quadro versiliese che è cresciuto rapidamente in questi mesi con l'aumentare della domanda. Il test nei punti convenzionati ha un costo di 15 euro per gli adulti, 8 euro per minorenni da 12 a 18 anni e 20 euro per gli stranieri.